Amadaus, il direttore artistico e conduttore del 73mo Festival di Sanremo, ha confermato l'appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella serata finale del 11 febbraio. Inoltre, come superospiti si aggiungono i Puri Uniti, che torneranno all'Ariston per la prima volta dopo sei anni. I membri della storica band hanno spiegato che hanno deciso di tornare a Sanremo, perché per loro quel palco avrà sempre un valore affettivo molto forte. Oltre al trio formato da Albano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, ci saranno anche i Black Eyed Peas ospiti nella serata del mercoledì. Salmo, Fedez, Takagi e Tketra e Gepequeno si esibiranno sulla nave Costa, ormeggiata davanti a Sanremo. Fra i candidati al podio Marco Mengoni, ultimo e Giorgia, ma attenzione alla scheggia impazzita Tananai, diventato una star dopo essere arrivato ultimo, allo scorso festival. Sul quotidiano avvenire domani verranno pubblicate le prime pagelle, dei 28 brani in gara all'Ariston dal 7 o l'11 febbraio prossimi. Per quanto riguarda Madame, la giovane e lanciatissima cantante indagata, per una presunta falsificazione di Green Pass, Amados ha ribadito che sarebbe un gravissimo errore estrometterla. Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini saranno le co-conduttrici della manifestazione. Ognuna di loro ha proposto di affrontare un tema all'Ariston, tematiche importanti secondo Amadaus. La Ferragni devolverà il suo cash all'Associazione contro la violenza sulle donne di I.R. E proporrà questo tema sul palco di Sanremo. Che cosa ne pensate del fatto che Zelensky sarà a Sanremo? Lo trovate giusto sì oppure no? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.